Ciao a tutti, altra sessione per la Tertana, quindi altra notizia di calciomercato, si tratta di Alexis Ferrante al Cesena, oramai è imminente il suo trasferimento proprio perché si deve sostanzialmente lasciare libero quel posto over e perché poi è stato anche ingaggiato Favilli e onestamente la rosa della Tertana è diciamo molto piena, molto corposa per quanto riguarda. Il numero di attaccanti per cui la dirigenza Rosso Verde e il direttore sportivo Leone hanno scelto di cedere Ferrante, un altro prossimo alla gestione Salsano e entrambi non erano comunque convocati per la prima di campionato ad Ascoli, quindi altra cessione per le fere, quella di Ferrante al Cesena. Per quanto riguarda la sfida di Ascoli ci sono state due conferenze stampa, una di Favilli che si è detto molto soddisfatto del gol e cercherà di dare il suo contributo alla Tertana, ovviamente ancora non conosce nuovi compagni ma speriamo si integri presto e bene e possa fare la differenza anche come attaccante. Poi il tecnico Lucarelli nella sua conferenza stampa ha sottolineato come è vero che si prendono i soliti gol, però è pur vero che questi gol li prendono tutti e semplicemente è stata brava l'Ascoli e non sempre bisogna, lui ha usato il termine, andare in caccia delle streghe e vedere i fantasmi ovunque, quindi cerca di cogliere indubbiamente il bicchiere mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno che è comunque quello di una reazione sul 2-0, che è comunque quello di una squadra molto propositiva nel secondo tempo e quello che le occasioni migliori le ha avute l'Ascoli, le ha avute l'Aternana dico. Poi come giustamente però sottolineava Lucarelli, la Serie B soprattutto campionato molto concreto, quindi dice chi è più concreto, ovviamente dice chi segna. L'Ascoli ha segnato ben due volte, l'Aternana soltanto una e ovviamente la partita è andata alla squadra marchigiana, per cui l'Aternana deve imparare, ovvero l'anno scorso lo doveva già imparare, però facciamo conto che lo deve anche imparare quest'anno, cioè ad essere cinico e concreto, perché poi ovviamente le partite possono cambiare. Cioè siamo sempre al solito discorso, l'occasione di partipilo o il passaggio smancato di Donnarumma, se una delle due la metti dentro, sull'1-0 ci va l'Aternana e non l'Ascoli. Per cui è un po' sempre quella la questione. Poi dopo, e la partita cambiava nettamente, poi l'1-0 invece l'ha fatto l'Ascoli e la partita è andata a favore dell'Ascoli che poi l'ha anche vinta, perché poi è raddoppiato sulla stessa azione, perché sempre sul calcio d'angolo ha segnato. Per cui è un po' questo, bisogna iniziare ad avere quella concretezza, scherzando io dico vuoi vincere cinque tiri e quattro gol, cinque tiri e tre gol, hai vinto la partita. Oltre ovviamente a non prenderli. Per cui staremo a vedere quello che succederà. Per il resto il Presidente Stefano Bandecchia ha dichiarato che non parlerà più di Ternana con tifosi e giornalisti, lo farà solamente con gli addetti ai lavori, in quanto la Ternana ormai è una sua azienda, la vuole trattare come un'azienda e vuole vincere sostanzialmente anche nel calcio, quindi anche la Ternana, come l'ha fatto e lo sta facendo a livello imprenditoriale. Per il resto inizia la stagione della Ternana femminile che farà il ritiro a Cesena, il ritiro precampionato. Inizierà domani battita la prevedita per assistere a Ternana reggina, seconda giornata di campionato, occasione di rischiato per le fere. Dopo una falsa partenza si può finalmente partire bene, l'avversario indubbiamente è ostico, un avversario che ha cambiato allenatore e moltissimi componenti della squadra e staremo a vedere cosa succederà e per finire ci attende sabato sera, oltre alla mascotte che farà il suo esordio, un nuovo liberati completamente rizzollato e speriamo sia un buon campo. Nota dolente per la Ternana, una piccola multa per il comportamento dei tifosi ad Ascoli, ma in un clima di festa ovviamente, come quello che è stato domenica sera ci può stare.